E' un segno di una forte volontà di cambiamento del regolo del mercato del lavoro, una svolta che ci chiedono gli operatori, gli industriali e anche i giovani disoccupati, ce lo chiede l'intero paese e quindi questa svolta la registro come coraggio e forza della volontà di cambiare le cose e noi come nuovo centrodestra siamo accanto a Matteo Renzi in questa battaglia che poi è anche stata sempre la nostra battaglia.